su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa bia in servo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa. Grazie.